un grande passo in avanti nella lotta contro le molestie e il mobbing nei confronti delle donne. Fiera perché grazie a questo testo possiamo finalmente portare al centro di questo dibattito e anche dell'opinione pubblica un problema che per decenni è stato minimizzato, per decenni è stato evitato in nome di una presunta possibile diversità di sensibilità e che invece grazie a quel movimento globale che è stato denominato Me Too e che ha portato al centro la denuncia di tante donne finalmente è diventata una questione centrale perché ogni giorno donne e ragazze subiscono violenze, subiscono molestie, vengono mobizzate sul luogo di lavoro, al bar, al cinema, al parco, in palestra e questo lungo elenco di luoghi potrebbe davvero continuare all'infinito purtroppo. E a questi luoghi noi dobbiamo aggiungere purtroppo un altro luogo pubblico nuovo che è il luogo pubblico virtuale. Sono i social network, sono le chat, sono i siti web, sono i blog, sono quei luoghi virtuali ma in cui purtroppo le violenze verbali e psicologiche si concretizzano drammaticamente sempre di più. E allora in Commissione FAM abbiamo voluto porre l'attenzione su queste vicende, su questi nuovi fatti che avvengono, porre l'accento su questo aspetto che appare sempre di più nelle nostre cronache quotidiane. Perché ogni tipo di violenza, ogni tipo di molestia, ha delle conseguenze gravissime, delle conseguenze che siano psicologiche o fisiche, ma come dimostrano appunto i casi di suicidio di ragazzi che sono vittime, che sono state vittime molto spesso di revenge porn o di bullismo digitale online e che non ce l'hanno fatta a reggere il peso della vergogna di quello che avevano subito. Ed è per loro, per tutte le donne che sono state molestate, per tutte le donne che vengono molestate, che stiamo portando avanti questa battaglia. E alla Commissione chiediamo uno sforzo maggiore, commissaria, in quanto esecutivo europeo. Noi vogliamo che venga finalmente proposta una direttiva che uniformi la lotta alla violenza di genere e vogliamo che in questa direttiva ci sia una definizione chiara, omogenea, di quello che significa essere molestata o mobbizzata. Ma soprattutto una definizione chiara di quello che significa oggi un luogo pubblico. Perché, come dicevamo prima, le tecnologie hanno modificato questo concetto creando nuove piazze virtuali, dove la violenza verbale non ha più controllo, principalmente perché le persone si sentono praticamente invincibili e impunibili in questi ambienti virtuali, dove ci si può facilmente nascondere dietro un nickname per sentirsi intoccabili. E allora chiediamo anche più educazione, chiediamo maggiore attenzione anche su questo aspetto perché dalla scuola, che è il primo luogo pubblico, dove i bambini iniziano a confrontarsi con la realtà, con appunto i propri compagni di scuola. È proprio lì che dobbiamo iniziare, educando alla parità di genere, educando all'uguaglianza, rispetto e alla consapevolezza. Perché rispetto è dovuto a tutti e perché il sesso della persona non la può fare migliore o peggiore di un'altra. Allora io chiudo ringraziando ancora una volta tutti i colleghi e le colleghe che hanno lavorato a questo testo. Siamo sicuri che ci consentirà di fare un passo in avanti importante. Grazie, vi porgo benvenuto a tutti dopo la pausa estiva. Spero che siete tutti motivati e riposati ritemprati. Quindi ringraziamo la redditrice.